Ciao ragazzi, oggi sono in campo con la nuova nostra cella di carico che abbiamo realizzato assieme ai colleghi di C-Zero che è un'azienda con cui collaboro e abbiamo fatto questa cella che è una cella che tira fino a 25.000 kg e dotata di inclinometro ci consente di rilevare direttamente la forza di trazione che l'attrezzatura richiede quando viene utilizzata in campo e che i dati di trazione ci consentono di poi fare tutta una serie di elaborazioni sull'uso della macchina che significa andare a valutare macchine diverse, trattori diversi, ad esempio si possono valutare anche combatture diverse sullo stesso trattore, insomma si possono fare molte cose con una cella di carico e è uno strumento importantissimo che ci consente di ottimizzare i nostri cantieri in campo per ridurre sprechi e ottimizzare le risorse, in questo caso il gasolio e l'operatività e i risultati agronomici perché insomma si possono fare degli studi anche sulle macchine. Quindi volevo solo dirvi questa nostra novità che abbiamo realizzato con G0, è una cella di carico che è in grado di rilevare i dati e trasmetterli anche su un cloud e in tempo reale è in grado di sia dare un valore di carico minimo, massimo, la media e anche la deviazione standard, già con dati già elaborati sul cloud, in questo caso digitale. E niente, è un servizio disponibile e chi volesse farne uso basta contattare la macchina. Ok? Ciao a tutti, grazie!